Sì, tira il foglio di uno. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 10 9 10 9 9 9 9 9 9 points 10 6-0 10 Marco Pagliasso 9 Non so perché Dici che mi allungo prima Può essere che ti manca un po' e quindi Infatti per uscire prima In allenamento continuavo sempre dietro Adesso devi darci in grado Adesso mi viene da dargli davanti Dagli un po' di più prima In pretrazione allunga un po' di più Fissa bene qua Fissa bene qua 3 point differential in favor of Jayan Satalakdhar Of India on target number 2 Possiglio in finale Trivoda pretnostiza prestamica Indie Marco Pagliasso shooting first on target number 1 These are the final 6-0s Of this gold medal match 8-9 liner is done Who close to call? 8-9 liner Who close to call? Probably 8 10 10 9 9 Is that right? 9 Un'officiale score 82 points You will find out in a moment Trivoda pret所以 prestamica Indie The three steve dei grai Orsi predosti prestamica Indie Attrazione alla fine Grazie a tutti. So it's a single point differential and this time it's Marco Pagliazzo shooting first on target number one. These are the final three arrows of the gold battle match. Ten. Nine. Tied score. Two arrows per win. Eight. Nine. Final arrow coming up. Nine just out of ten. Five. Nine wins it. It is a ten. Jayatatalikdar. Three times now has defeated Marco Pagliazzo at this venue. Marco Pagliazzo taking silver. Jayatatalikdar of India. The champion of the 2009 Fita Archery World Cup here in Orange. And coming up in just a few moments ladies and gentlemen, our victory ceremony. Please stay with us. Yes. Nine wins. Three. Two. Grazie a tutti.